Il Venezia passa e va in Serie A ragazzi, complimenti a Vanoli, ha fatto un lavoro veramente incredibile, ha fatto un lavoro incredibile Vanoli, strepitoso, la società del Venezia ha veramente individuato un allenatore che ha fatto fare il salto di qualità a una piazza bella, a una piazza calorosa, a una piazza che torna con merito in Serie A. Anche se devo dire che in questo doppio confronto la Cremonese secondo me meritava molto di più, ha giocato davvero un calcio bello, ha avuto tante occasioni e bisogna sicuramente dare merito a Joronen, da merito alla fase difensiva del Venezia, di essersi arroccata di aver saputo difendere, di aver sempre concesso il tiro sporco alla Cremonese, però veramente nel doppio confronto secondo me meritava di più la Cremonese che il Venezia, chiaramente per il miglior posizionamento di classifica e per il percorso che ha fatto il Venezia merita la Serie A, secondo me comunque avrebbero meritato entrambe, però poi la legge del calcio è questa, per la stagione secondo me per il calcio espresso il Venezia ha meritato di più, nel doppio confronto secondo me meritava di più la Cremonese. Oggi un git che è decisivo, porta in vantaggio i lavunari al ventiquattresimo e poi la partita comunque l'ha un po' condotta, diciamo la Cremonese per quanto riguarda i tiri in porta, per quanto riguarda il possesso palla, anche come all'andata la Cremonese ha giocato davvero un bellissimo calcio, Cremonese che secondo me con questo progetto tecnico il prossimo anno sicuramente avrà buone chance di potersi confermare in questa Serie B e perché no magari puntare a qualcosina in più, proseguiremo chiaramente il calciomercato, però devo dire che il Venezia ha scoperto veramente tanti giocatori interessanti e ha scoperto un allenatore veramente veramente forte e capace e che sicuramente sia se rimarrà a Venezia, ma sembra di no, sia se andrà in un qualche altra piazza, secondo me si confermerà perché ha davvero delle idee importanti. Stesso discorso per quanto riguarda la Cremonese, sicuramente il gioco di Stroop è un gioco che è piaciuto, un gioco che comunque è coinvolto, un gioco che è stato fatto veramente di tante cose, a partire comunque sia da lo schieramento con i centrocampisti di qualità, con messi come mezzale, ovvero già giocatori che di solito fanno il 4-2-3-1, magari secondo i punti messi come mezzale di qualità ha saputo dare un qualcosa in più, una Cremonese che sicuramente va apprezzata per quello che ha fatto dal punto di vista difensivo durante tutta la stagione, ma anche poi quello che è riuscita a proporre dal punto di vista offensivo, non concretizzando quello che poi è stato prodotto per la mole di gioco. Per quanto riguarda il Venezia, invece una squadra secondo me più diretta, una squadra che veramente fa un discorso importante con gli esterni, una fase difensiva che secondo me poi si è evoluta e migliorata davanti a un portiere forte come Gioronen, a centrocampo sicuramente il Plei Tesman è un giocatore a tenere sotto osservazione importante, là davanti sicuramente Gittiker e poi Ampala è una coppia che si completa molto, poi bisogna andare a parlare anche di altri interpreti come sicuramente difensori centrali molto interessanti, la fisicità, la ricerca poi di andare sempre magari a contrasto le doppie palle e andare a giocare veramente in maniera diretta sulle due punte e poi concreta, perché poi il Venezia è stato questo, insomma quest'anno è stata sicuramente una squadra che ha prodotto tanto e che ha tirato fuori veramente tante soluzioni, come possono essere il cross da palla inattiva, lo sviluppo e poi sicuramente anche il fatto di trovare tante soluzioni anche da fuori area, insomma sicuramente il Venezia ha avuto ecco tante 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 situazioni importanti, e poi non dimentichiamoci il faro, il fulcro, l'anima e la bandiera, poi Ampala, quindi sicuramente una serie A, meritatissima, complimenti al Venezia e sono contento per loro, onore comunque alla Cremonese. Ditemi la vostra, ragazzi, nei commenti se siete d'accordo o se non siete d'accordo, un commento mi fa sempre piacere, like se vi va, iscrivetevi al canale, che è Serie B. Grazie.